Cari concittadini, sto girando la città che è ripartita da grande, siamo pieni di turisti e poi c'è la campagna elettorale, allora sento tutte queste chiacchiere, tutti questi attacchi, ma io dico il centro-destra è unito sui programmi e sul progetto attuali e futuri per la città, dall'altra parte vedo moltissime persone candidate che poi aspettano il secondo turno per fare cosa? Per mettersi assieme, con programmi diversi, fare chiacchiere, allora sto dicendo, cari concittadini, state dietro al sindaco di piazza e al centro-destra che sicuramente continueremo a portare avanti lo sviluppo della nostra amata Trieste.